Ho avuto un grande piacere di avere con noi l'autrice e ricordare che c'è tutto il personaggio. Assieme alla Zama c'è Massimo Grandinini e Michele Barzassi che non avevamo bisogno di questa visita. Voglio solo guardare due minuti per leggervi una piccola sensazione che come mai abbiamo fatto quando abbiamo avuto il libro per dare rilevanza a dirlo stesso. Perché come sempre se è attaccato a un libro ci sono alcune parole che danno significato e che possono rispondere interessi da noi. Queste poche parole dicono così. Ecco un bellissimo libro, il ricordo di un uomo politico straordinario e molto amato. Una figura fondamentale nella storia del nostro paese. Lo consigliamo a tutti ma specialmente a quelli che denigrono in blocco la classe politica della primavera. Nino Friata, brillante economista, illustro esponente di C.E.A. e del Ministro della Repubblica, si distingue da quella qualità umana, da certezza di pensiero, intelligenza e visione nazionale. Ha dato un futuro decisivo per la crescita dell'Italia per rendere a tre libri in Europa e nel mondo. Rimine in queste fagge, attraverso il racconto appassionato e volente dalla Luglia, l'altra metà di una coppia affiattissima. La storia è caratterizzata da piccoli bambini di ironia e gusto per i dettagli e intrecciando un film privato, rende l'onore al verito di un servicore dello Stato. Una razza in via destitiva, che ha sempre preferito la discrezione e l'operatore di un'operabilità, al presenzialismo e all'organizzità, ma un po' più chiaro. Emerga anche il ritratto di una famiglia molto unita, che ha affrontato insieme la tragedia dell'improvviso valore e dei sette anni di coma, uno spaccato vero divino della buongesia illuminata, impegnata per ritenersi al nostro paese che si legge poco l'ora. Quindi grazie veramente a Sara per aver dato a tutti noi la conoscenza, l'intero del nostro libro che era a me. Grazie. Buonasera. Allora, avremmo deciso di fare così. Io presenterò questo libro, vi ruverò una decina dei minuti, dopo di che Massimo Gramellini dialogherà con Giara, non metterò a chi ci sarà il caso, ci sarà qualcosa di più da dire. Quindi facciamo una cosa che non sia, diciamo, né celebrativa né completamente dialettica, una cosa un po' metastante. La mia natura di questo libro è una presentazione. Io credo che chi leggesse questo libro, senza conoscere Giana, forse senza neanche conoscere bene la storia di Andrea, potrebbe trovarsi di fronte ad alcune delusioni che ad alcune ben qualche cosa ha preso. Che vi conviene sarebbe. Potrebbe attendersi che di leggere la biografia segreta di un uomo politico, che è stato molto importante nel primo libro, troverebbe invece lo spavolamore. Potrebbe cercare queste pagine retroscena politici inediti, dichiarazioni maldette sulla politica di Gnani in una turbolenta transizione, e troverebbe invece un lessico familiare di un uomo. potrebbe cercare, potrebbe cercare, questa sarebbe la cosa peggiore, di svirciare nel dramma umano che questa coppia, questa famiglia, hanno vissuto per sette e lunghi anni. Gli anni che Giana, Petroni, ha vissuto accanto sull'ambito, se li hanno inondriate, immobile sul resto di studiare. Magari, magari aspettandosi da lei, qualche pelle morale, qualche ricerzioso, qualche teoria, qualche principio forte che scaldi il dibattito sul fine dell'Italia. Troverebbe invece una disarmazza, sincera, profonda, leggera, testimonianza sulla vita. Se leggerete questo libro, la scrittura, molto leggera, molto lieve, non vi rivelerà che prima di darlo l'estante, già mai esistrato il libro. E io ho avuto il privilegio, e qui voglio ringraziare, a qui, ma anche a tutti, di vivere con lei, la gestazione iniziale di queste pagine. Quando non erano nemmeno pagine, ma erano una cartella di file Apple, molto confusi, nel senso che non si capiva a parlare di scritti in tempi diversi, alcuni scritti all'epoca, alcuni scritti pensando, che davvero un manco, che c'erano delle cose che si intuivano molto, molto bello, molto toccati, molto affascinanti, ma che non erano ancora più cose. e ho visto piano piano diventare questo magma memoriale affettivo un libro pubblico, se posso dire così. Un libro pubblico nel senso che abita da delle ragioni e da delle passioni che non sono accessibili soltanto a tutti e a nessuno. E se non avete ancora reato questo libro, scoprirete che si alternano dei capitoli intitolati prima e dei capitoli intitolati dopo. Prima e dopo cosa è facile intuire? Prima e dopo quello spartiacque delle undici e mezzo di sera del quindici dicembre del 1899 quando Gianna ricevete quella telefonata da Roma che diceva che non si è sentito l'animo. Credo che tutti ricordiate, chi non ricorda lo ricordo io. dato di soldi ormai ricordi. Vigliano Andreatta senatore già diversi volte ministro Andreatta economista studioso si era accasciato improvvisamente nell'emicicolo del senato nel pieno delle discussioni sulle lezioni iniziali. E a quell'ora precisa di prima diventa irrimedialmente terribilmente un dolore e non la torre di un libro. Veniamo in Andreatta resterà in Roma per sette anni non si riceverà mai e morirà il 26 marzo 2007 quindi poco di dieci anni fa quel momento in cui prima diventa dopo è poi un momento più molto famigliante purtroppo è l'evento che indiote ribalta una vita intera e in questo caso particolare poteva far correre un rischio a questo libro poteva indiozzirselo tutto poteva piegarlo dolorosamente sotto l'attesa di questo finale di cui sarebbe stato un culmine tragico no? Il lettore ovviamente già conosce il lettore di artista già sape che si aspetta e quindi avrebbe letto probabilmente tutto il libro in funzione di questa di questo rimassimo di loro e beh Gianna ha fatto un'altra cosa ha sparso il dolore di prima e questo non per macchiavo non per dramatizzarlo ma lo contrario perché prima contenesse e contenesse in tutti i sensi il dolore contenesse il risultato di questo libro è del suo titolo è stata tutta luce è una citazione sono parole che scrisse ad abobetti pensando è stato tutta luce tutta luce anche quei sette anni di vita molto speciale durante i quali come Gianni vuole raccontare l'unica volta in cui parlò di questo con un giornalista con un beliannino ancora è venita e anche di questo vorrei ringraziarlo pubblicamente perché è stato un onore e una responsabilità che ho sentito molto dicevo di questo compagno di vita che per cui già non si è mai sentita vettura come dicevo con gli anni del padre con lui con gli anni di gli anni sospietate delle speranze affidate a qualsiasi momento di ciglia o magari anche alle illusioni alle promesse della guaritrice nel libro tutto è raccontato con molta sincerità e senza farlo ma gli anni dei giornali letti ad alta voce nella camera d'ospedale della tenacia serena sorprendente come io ho conosciuto da anni del periodo ma anche delle sue grida la bestia ferita inciata per strada quando non sentiva nessuno gli anni dei visitatori illustri imbarazzati commossi in quella stanza d'ospedale dei cordoni anticipati non sempre così graditi ma di tutto questo troverete il racconto nel libro dolce straziante sincero ma che già riesce a fondere a separare a fondere con gli anni della serenità delle gioie dagli inizi romantici di questo amore amore del novecento non so come altro definirlo forse non tra una promettente studentessa e un giovane professore con gli occhi non cioteschi troverete troverete in un istante di vita la proposta di matrimonio che è una tra le più strane che io abbia mai letto ma me la lascio nelle sue la vita passata assieme i viaggi le condizioni tra i dosi le amicizie i quattro figli la vita in questo libro è una scuola prima e dopo sono divisioni che appartengono a la cronologia ma non alla legge del cuore dicevo dello spiazzamento possibile di un lettore distratto e confesso che anche io con quell'attitudine del giornalista che non riesco a togliermi di dosso lei si rimuove a queste pagine aspettando il retroscena che sarebbe legittimo attendersi dalla biografia privata di un politico che è stato protagonista di un'epoca di grandi primosimenti 12 bene queste rivelazioni non ci sono non so perché probabilmente non c'era molto da rivelare non so non immaginavo che quello o forse non era o forse quello che c'era da rivelare è un po' non so comunque sia la storia c'è che in questo libro ma come un riflesso un guagliore su una lunga di una stanza il partimento di Mora è una pagina di spicottimento gli anni di piovo si riassumono nella minaccia poi le lealti inconsistenti di un recato incontrato per strada tangentofoli all'ombra di amarezza si direbbe quasi che Gianna abbia voluto dare alla storia quella con la maiuscola una specie di modo di sfondo come se fosse una specie di film lasciato scorrere sul televisore in salto mi ha anche venuto un dubbio che Gianna volesse prendersi un po' una riniscita su quello altrove quello spazio pubblico in cui spesso il marito viveva un parlo da lei e che alla fine si è imposto anche evidentemente come scenari per ridere della sua caduta nel comodo che avvenne per una strana economia molto forte nel mondo più pubblico che il paese ci viene quando si fa un'aula di un'aula però penso che fosse la strada sbagliata perché questo libro che pure è così intimo personale già compie un'operazione intellettuale molto raffinata che è anche forse difficile d'accogliere lo sarebbe se lei stessa nelle prime pagine non ci mettesse sulla strada dell'antica Gianna lo sapete è psicanalista e sa che il futuro cambia passato che il dopo è legge ricorda il primo le prime parole di questo libro sono soffrandenti Gianna parla comincia quasi con un sacco con una definizione di che come sono le trash memory trash memory letteralmente memoria spazzatura non è proprio un'introduzione attivante per il libro di memoria no non serverebbe non serverebbe ma naturalmente non sono memoria spazzatura un termine che ricorda anche di letteratura ma solo virgolette diciamo memoria minuta che scorrono a margine dei fatti storici ecco io credo che una delle virtù di questo libro che è legata alzata al di là di tutti i valori sentimentali umani mitotici etici che ci sono dentro nati è in questo esperimento insomma di st'operazione quasi costiana dove succede che questo viaggio è in ogni modo quotidiano dove sono spesso raccontati e molte volte anche dedicati i film visti assieme i libri letti i luoghi visti le persone frequentate più o meno famose i dettagli diminuti apparentemente solo a letto di suoi gerbi o figeri familiari le parole incomprensibili di Andrea o quelli sui taschi della giacca sempre tutte bruciacchiate dalla pipa ma in spesa da venne ecco succede che tutto questo non è più semplicemente un'argo di vecchie fotografie di famiglia ma direi una specie di esperimento di memoria sociale ho letto un libro bellissimo che dovrebbe essere molto simile a questo che è una vita di anni al di ma è semplicemente un libro nel ciclo di cose incontrate da una strada della vita questo libro è quello di meraviglioso di e quindi questa cosa è questa memoria continua congevisibile con i contemporanei ma anche con chi non ha vissuto proprio quegli anni io l'ho letto come un fluire di cose del novecento che scolrono come controcanto alla storia maggiore e fanno in questo libro un'occasione per conoscere non solo due persone già nel Vignanino ma anche forse un po' grazie applausi ma io con il cerno dei venti di qualche idea che vorrei che si fa migliori di la voce di questa donna segno tutto il giorno e la notte l'aria che mi spiro con le parole che dà ragione cerco di capire ma i sensi e il sentimento si rifiutano di accettare questa realtà ho cercato di rimanere composta fino all'ultimo perché così tu volevi non ce l'ho fatta mi sono ritrovata a gridare come un animale nelle strade deserte tu mi hai sempre consolata dagli sgarmi di chiunque dispensati a pieni mani la tua saggeio io vedo la vocazione alla depressione e se ancora lo tengo a vada è perché non voglio che tu ti debba percorrere di me voglio mostrarti le mie fedeltà e l'adesione alla tua fetta e sciamo temendo duro caro sì ma ogni volta mi metto in piedi temo alto il nostro messaggio come sento mie ora le parole di Ana e Piero govetti nella tua vita scriveva c'è stato tanto ardore tanto ardore tanta gioia da farla più ricca e felice di tante altre e non c'è stato nulla di là e di imperfetto nulla al secondo è stata tutta luce e penso tu non volessi che si piangesse ma che si considerasse la tua vita un capolavoro e un esempio posso farlo una volta ho visto anche io lo stesso che si scrive di questo tipo non lo so certo spiegano da un gran psicanalista però credetemi il dolore prende una forma non non prende male senso ma prende una forma solo nel momento in cui riesce a entrare fuori dalle vita cioè con la scrittura quando riesce e prende improvvisamente una forma la cosa affascinante è proprio che si vede nella si vede molto che nella scrittura di questo libro la utrice è come no cioè sta cercando di arrivare un significato a quello che ha visto io però voglio partire con un sorriso perché la prima parte del libro guardate è strafidante è la strafidante di arrivamento più in quattro anni cioè due anni ci sono tempi che per i tempi moderni sono incredibili cioè questa meravigliosa ragazza all'università di Milano vede passare un giovane assistente con una borsa autorisa con le animali di gompili con la borsa cancione non so se parlo ora per la virtù di carinare con il momento un po' ma saluto di là tutto di questo slavo e le animali con i famosi come mi è sempre come diceva e comincia questa frequentazione perché impiegava praticamente due anni di carattura di un secolo terreno in una vera cos'era come si faceva in quegli anni a essere fidanzati senza esserlo perché questa è una cosa che affascina il libro poco perché siete stati due anni co-fi fidanzati ma in realtà non c'è se vi davate con la bellezza vi davate con la bellezza come funzionava però era un'amicizia amorosa che si compilizzava con i gesti che però non arrivava mai a una esplissima dichiarazione da parte di Nino allora usava che erano nomini insomma la serata non la norma non rimaneva in attesa e lui era capace di tenere acceso questo fuoco con tutti quella quotidianità che era molto esistita molto era sempre era un presente diciamo nella mia vita al tempo stesso si chiamavano sempre due cose generiche da fare insieme quindi andare a pranzo andare a tè era un esempio in treccio che si è trovato in un principio a lungo se lo stava bene e il terzo è un chaperon che è già il pubblico si intende non si tratta poi ha invitato in fondo lui ha invitato il comedico ho capito che specialmente nei primi debiti mi dava sempre quando l'amico era a casa per evitare per spizzare e io per un bel po' di tempo sono stata contentissima con le cose che sembrava che questo mio grande amore era scoccato fino a un nuovo momento fosse ricambiato quando c'erano dieci anni quando c'erano due o tre dieci anni grazie in febbraio e in febbraio e in febbraio sì sì e pensavo che avessimo un tag e quindi avrebbe anche potuto vedere se fanno un sacco un maschio eh un genio ma non sempre la parla neve diciamo troppo tanto tempo in cui sono stata appagata avendo da lui cominciato a chiedermi eh se come capitava anche le amiche insomma non fosse uno che le prendevano in giro avevano degli innamorati che le prendevano in giro come si diceva ancora no cioè le 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 facevano delle fidanzate ma senza mai formalizzare la cosa dire un'altra cosa che non va che non è di cuore non si è mai espresso da un'opera di mani potrebbe essere tutta la mia e poi la dichiarazione di matrimonio perché è la relazione di il patrimonio segue come logica un altro altro affettuoso e carino che aveva fatto aveva scritto un libro di economica di una cosa costantemente pubblica ed ha dedicato al GM allora io avevo risumato il secondo Marina e ci tenevo abbastanza in cui ci ho tenuto allora io gli ho detto ho dedicato a Giancarlo Mazzocchi che era il suo collettorio lui ha riso che non ha detto no è dedicato a e così siamo avutati a entrare un mio abbandono lui però non volava e non tornava persino e non lo volava per vedere se non gli essi non scusate adesso per me ma lei non ha chiaramente esplicitiva ragione ma a quel punto non si spera intornava con la di non tornava ma no siamo arrivati a questo paracusso che mio nonno materno quando mio padre proteggeva mia mamma e era un po' decarato lo ha convocato e mi ha chiesto quali sono le elezioni e mi ha oveste allora mia madre ha ispirato mio padre a fare lo stesso un'ombre a mio padre ha convocato a mia abba e mi ha detto quali sono le sue posizioni e mi ha detto no non so la carriera è ancora definita non non sarei in grado di dire una parola definitiva quindi mio padre ha fatto a casa si può era molto geloso e ha detto mi ha fatto veramente un piacere mi ha dato un piacere ma è molto buono e devo dire che ero quasi quasi giudicidio ero un'ombre ero molto depressa e mi ha risposto mi ha detto c'è un amico psicotistra che mi ha risposto quindi mi ha distribuito a fra scala che non è stata bene in quel caso di e poi i due canali scala da come stanno portando così così conoscevano meglio come si è sblocata se è sblocata devo dire, io ho preso vizio a dirgli, nonostante fosse un'attività di altri tempi, e quando abbiamo concluso Tatesi, siccome lui mi aveva dato la mano, il biotarabica, gli ho schioccato con il bacio sulla bacia. Lui ha molto sorriso, mi ha dato la bacio sulla bacia, però no. No, voglio dire una cosa, in questione, ci sono due baci, uno è il bacio sulla bacia, l'unico bacio in bocca, doveva saldare un segno, perché lui matava, aveva un incontro di ragazza con alcuni dirigenti del Partito Marta, e saldare un segno bacio. Sì, sì, secondo le abitudini, l'unico bacio per provare da lì, provare a saldare un segno, e invece a quello che diceva, più piacevole è successo che lui mi era usata a un progresso tecnologico a Stresa, e lui non era potuto venire, mi ha portato fuori, mi ha ammazzato sul cofano della macchina, e mi ha istituito questo nuovo bacio perché mi ha portato mesi, e allora insomma ci siamo considerati un bucchino di vittimi, ci siamo avventure, modellati, castigatissimi naturalmente, finché succede che è una sera vendita a cena, e mi legge una lettera dell'IMIT, dell'Istituto dell'Istituto Portecnologico, in cui si propone di assumere una missione a Provadelli, che le spese, per circa un anno universitario, 15 a 9 mesi, perché le spese saranno pagate quelle moglie per una seconda persona che potrebbe essere su un moglie o una segretaria, e questa è stata la dichiarazione. grazie la dichiarazione è chiaro che l'ultima cosa che lei mi ha detto però andiamo a test con una volta che da esempio giocare nella fronte che mi si scommi e da ricorso Mi ha fatto conoscere la sua numerosa famiglia, molto divertente, sono stata presa di questo accordo e ci siamo sposati nel 20 settembre, il 9 di ottobre siamo partiti per l'India. Già una preda, mi pare si chiamasse una giornalista del Borghese, ha scritto il canto comunista, reatta, vale questo punto di persona, della poverità e dell'individuo. Allora, c'erano già anche allora, se avrei notato nel libro, non ho già parlato di fake news, non controllate, che diventano proprio un minunutico. La signora Filippo smentisce un minunutico, cioè molto noce, ma se vuoi adesso in internet, far vedere più spesso questa storia, cioè che era mirata che era sicuramente un uomo, come tutti i migranti, in Italia, con la destra un po', con i piedi strutturamente appoggiati nel cuore, come diceva, andiamo. Allora, l'arrivo è dimenticata, all'arrivo di me, cioè lo avevo lasciato, per straccio, per straccio, per straccio. Ma come questo verrà? Allora, io non ho solo l'idea di chi abbia messo in giro questa voce, e mi vedete qualche cosa che ce ne immaginate nell'italiano, perché in fondo il pane è tutto aglio, se ci si è realizzato, era stato un buono. E chi avessi conosciuto l'ansia proprio con cui il vino tornava a casa e mi cercava. e l'ho raccontata, l'hanno scritta nei giornali, l'ho proprio su panorama, c'era così molto divertito, ma sembra sia una cosa che sento. Mentre invece mi era sbadato, che era ritardata tardi, c'è un bellissimo passaggio del libro che lei spiega che andrà anche a questa visione, anche queste che ci sono produttive in pieno, di pensare che l'orario dell'appuntamento fosse l'orario in cui partire dall'appuntamento, perché l'appuntamento era la parte della città che non era proprio da questa visione. Detto questo parliamo di un uomo, di una personalità straordinaria, quindi una delle tracce, dei fili del libro è anche quella di capire come può reggere una storia, un po' in compia, quando due personalità sono forti, due persone che seriamente sul lavoro, io vedo in città proprio dei vinti, mi piace moltissimo, non so se vi è scappato da subcontro un po' questa racconta di quando Munignani diceva la notizia che ha 23 nove per le comunità e stava passando vicino a un istitutore di Benvini in cui lavorava il vecchio Benvini, mentre aveva l'ex studentale, la sua moglie, e la moglie diceva in questo modo, in particolare dicevo, se fossi il master 1, adesso è il primo Nobel per la comunità e in qualche modo ci si riconosce un uomo in questa operazione. Io capisco che avevo stato avuto Cattelina, aveva trovato di Miliani, in realtà la sua moglie, ho detto che aveva trovato il camminino al limite, però io mi sono messo a conto di quanto io fosse una persona eccezionale, veramente straordinaria, col tempo, per le derivate, prima era un memoramento, aveva tante qualità di cui innamorarsi, questo dissenza privato, spiritoso, dal punto di vista è molto bello. Poi ho avuto anche queste sue coincidenze che aveva, se ho perso, io ero un po' preoccupata che facessero di un istituzione di personaggio che è confuscava la persona, e abbiamo parlato di questo, credo di essere servita, cioè che è più lavoroso, diciamo, per il suo personaggio, durante una forma, ma... Lui stesso diceva che la cucina distingue un personaggio e una persona... Ecco, mi aveva detto, si, 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 tolgo il personaggio, poi non lo so se fosse una persona, perché non mi ha detto, tu dire, tu mi dico... Ma che cos'era il personaggio? Cosa intendeva il personaggio? C'è certi suoi tentativi di fare, di tolsi? Sì, c'è... C'è le cose che ha evitato un posto più maggiore, che è... Adesso la storia è un po' un migratorio, detto il milanese, no? Ma un pochino poi poi è un maiuscia. E questo... Cercare di colpire l'immaginario della gente quando non ne aveva nessun bisogno, e invece facendo qualche gesto un po' strano, come la lotta che si è fatta accompagnare da un cameriere fiscale, con una brocca di acqua minerale, per metterla nel radiatore della macchina di acqua minerale, per usare un minerale, caraffa di cristallo, camminiere, cioè l'artifiscale è un mostrante bellissimo piano, e che si definisce via un secchiello, una profilia, ci si è fatta accompagnare. Ecco, questo a me dava l'idea che volessi un po' farne l'occhio, insomma, e mi lasciava per questo. E poi un po' attivamento. Poi, per altri versi, invece, la vostra storia, che mi ha affascinato molto per esempio, è una storia che proprio come posso credere a me, è sempre un filosofo, no? Un po' subito traccia, c'è una diversità, c'è una diversità, quindi in realtà è veramente vero che era una persona molto riservata, cioè molto delicata. Sì, 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 assolutamente. Era gestata, diciamo, invece. Insomma, e lui diceva, beh, quello che mi hai destituito, abbiamo avuto dei baci, infatti vecchi, perché lui diceva a me, non da noia se tu sei over-dressed, non da noia se sei over-dressed, invece di dirmo, è molto contrario, perché a me, se mi sentivo testita troppo di gusto, nelle nuove situazioni, mi sento a me, perché può essere piuttosto grande. Ma, a parte questo, sentiva tutto il resto, perché era un po' molto riservato, perché come osservava perché di prima, come mai, lui non ha raccontato tutti gli stupi politici, lui viveva la sua vita politica con grande intensità, lontano da me, e quando veniva, raccontava tutti gli aneddoti, che non... delle cose che tutti potevano volerci. ecco, io ho prima fatto due o tre esempi di momenti storici che stanno da sfondo alla nostra crociana, che è quella di un teatro, ha lasciato il colore mio, una grande intensità, una grande partecipazione in molti metri. Quello che vorrei capire, vediamo se provo a farti fare un passo in più, rispetto a quel presente. Quando si vive con una persona così esposta, è difficile che la storia stia fuori dalla porta. Ecco, diciamo, però è un sposo di quella porta. Quanta, nella vostra esperienza, ne avete lasciata entrare? Quanta ne avete lasciata fuori dalla porta? Da grande, ci sono stati anni pubblici, gli anni del terrorismo, gli anni del crollo del sistema politico, gli anni del terremoto del 2000, gli anni della... ci sono stati anni importanti. Quanto è stato avuto il rapporto della porta? come dice, gli anni del portico del 2000, no? È rimasto famoso, il balzo ferino, proprio bene, che ha fatto sulla cattura a Trento, per domare, un'assemblea puntuante, e si è riposta così. Quindi, voglio dire, cercare di intendere il mezzo a delle cose molto simplici, dire che con la società del mondo. non portava il lavoro a casa? No, non portava il lavoro a casa? non portava il lavoro a casa come suo padre, perché suo padre è stato un portante banchiere, il suo padre è stato un precedente di guerra, suo padre era una figlia di stituto a Trento, però in casa faceva così delle piaccia di un po' di bottega, un mino, un po' di finanze familiari, un po' di un po' di questo, insomma. L'abito familiare era, talmente alta, vissuto in maniera intensissima, anche se non con gesti rigorosi, quindi questo faceva sì che rimandesse un po' fuori dalla porta di quello che, sì, certo, quando era stato rapito moro, il mino aspetto, dove se fosse stata una persona di famiglia, insomma, e aveva addirittura lui, che era proprio incredulo al massimo, non ho cercato di conflittare un po' la sé, che era questo, un palagnostra, che aveva trovato, non lo so, dove di scolparsi, cosa di questo genere, quindi, pare che l'abbia contattato, questo non ricordo più chi, ma, quando era arrivato, effettivamente, le cose, era quella che non aveva stato uscito, e, sì, io non ho mai visto l'indianza, che è stato molto vicino, quando, ma, non so, sì, non so, 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 più antropologico, cioè, effettivamente, in questo tipo trovare, la storia della famiglia, è di un certo tipo di borghesia italiana, che oggi, in realtà, non può trovare, ed è anche difficile da spiegare, a chi non ha vissuto quegli anni, e capire, per esempio, ecco, Andrea Alta è davvero il campione, se possiamo dire così, dell'anticassa, no, cioè, il mondo in cui ci è passata l'idea, per tanti anni, direi, 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 cosa vuoi dire, dall'anno, nel famoso anno, in cui Craxi, in Parlamento, disse, costitavano tutti, ecco, all'interno non faceva successo, non faceva diverso, cioè, non era che tutti i politici erano uguali, no, ci sono anche stati, in questo paese, dei politici, che, adesso ci sono ancora uguali, che, che riescono a distinguere la sfera privata e la sfera pubblica, io, dico sempre, pensate, era un mondo diverso, sono fitto di, l'indirato dello Stato, quando ero bambino, andiamo a parlare, una volta, quando ero compenato a scuola, il mio padre, stavo all'ufficio con l'infra, quando finiva la turno, e mi mettevo a giocare, e poi, magari, mi doveva prendere la porta penne, e il padre diceva, no, quale è la bio, e dello Stato, tanto che, quando io, invece, mi tenivo a scuola, chiesero, che cos'è lo Stato, e io disse, il produttore di Biro, avevo otto anni, per la vita. Ora, pensate oggi, immaginatevi oggi, in un ufficio con la Biro, e la Biro a tutti, e quindi, c'era una visione, c'era un bellissimo episodio, che riguarda, il film che diceva, prima di là, che sta facendo, c'era una, a tre, c'era una, una persona in coda, per prendere i miei, qualcuno che diceva, questo era, un sentito di un tavolo, e diceva, sicuramente, ci fosse arrivata, non avrebbe problemi, e alla fine diceva, guarda, sono la figlia, sono qua in coda, dalle sette del mattino, cioè, l'idea, comunque, di una, di un senso etico, no? E questo spiega anche, poi, possiamo dire tutto quello che poi è stato detto, che è il mondo, che è l'interesse del programma, di tutto il mondo, di adatto, di questo meraviglioso luogo, che aveva lì, il professor Provo, che viene rappresentato, cioè, un mondo, che combatte, per esempio, prima ancora, politicamente, ma lo dico con grande serenità, cioè, è una contraposizione, che prima, è pre-politica, è proprio una contraposizione, del modo 10, che non riconosce, come un tipo di borghesia, di EPSO, che non riconosce più, dei determinati valori, e la cosa, qualche persona, che diceva, sul merito, su il titolo di Tarleti, ma diceva, sempre spesa, la categoria di Vittore, perché ci ha mai detto, adesso, voglio raccontare, Berlusconi, qua, l'aereo, ho fatto fuori, eccetera, non so, perché, per questo, a disposizione del progetto aereo, suonami, e Berlusconi, che era un passaggio, e voleva, evitare, anche il passaggio, per parlare, anche, del passaggio, di Borghesia, e, non gli ha detto, che, non era assolutamente, impossibile, perché, era un passaggio, era una bella, e, e, quando, il primo, non so, non so, forse, per lui stesso, ha detto, ma lei è molto di destra, e lì ha risposto, si immagini, come mi sento, pensando che la destra, era rappresentata da lei, cioè, uomo di destra, non dico, e questa è una cosa, in quegli anni, difficilissima, io ricordo, come era difficile spiegare, esempio, che Montanelli, non fosse controprofusione, in quegli anni, il lettore di Montanelli, diceva come, è sempre voluto, che arrivasse qualcuno, che si controponesse i comunisti, adesso, che arriva anche, a vista il contro, perché c'era questa controposizione, che non era, che era un contorno, insomma, poi c'era anche, un certo soggetto, che si è stato divertitissimo, anche, nel libro, che riguarda anche, il professor Prodi, che era stato assistente, e lì veniamo proprio, i due anni, no, io mi riconosco tutti i Prodi, lo confesso, che sono, di cuore nuovo, perché c'è questa, questa studentessa, che deve passare l'esame, e con Andrea, e con Andrea, non ce l'ha fatto. E quindi, cosa succede? che succede? Che, si trattava di, si trattava di, della moglie, di un amico, sia di mio marito, che di Romano Prodi, e allora, questo momento disperato, chiede Romano, se possa intervenire, in qualche modo, per salutare, la moglie, che si chiedesse, di aver rimasto, allenato, per sempre, su questo esame, e, non veniva sempre presente, quindi, la cosa si faceva difficile, però, in un momento, in cui lui, si deve ascoltare dall'alba, e allora, Romano, ne approfitta, e, insomma, le dice, mica, quel che sa, che è la grande domanda, di Sant'Avangelo, di un momento, del professor, questa, ha detto, quel che sapeva, e quando, ho avuto un atto, ho detto, io penso, che non è un dubbio, ci stia, e lui, ha detto, facciamo 18. Adesso, mi sento, io, avevo già fatto, tre punti. Il libro, non fa scotte, c'è solo, sembra un libro, scritto, non per essere complicato. Fatti, ci sono, esattamente. E lui, ha detto, ha detto, un narcisista, ha detto, ma non so, mi ha voluto colpito, ma non racconta, e penso che, non è un momento semplice, ma, quando, le oltre, così, mi colpisce, credi, ma, è più con la grande oltre, diciamo, non c'era stato mai, un legale, che si vedeva, che era una cosa formale, ma, la cosa di consiglia, cioè, che consiglia, di dare una, e parla solo di sé, cioè, perfino in quel contesto. C'era un momento, c'era stato un momento, mi ha detto, sì, era stato un momento, ricordo al nostro amico, e io ricordo questo episodio, del quale, tutti sentono molto sorriso, lui era arrivato, c'era una bicamera, c'era una porta verticale, in casa nostra, allora lui ha restato, non mi ricordo, una pistola, e l'ha appoggiata, sul pianoforte, del centro, da noi, mi sapevamo, quando si entra in casa, di amici, si depurano le armi, e, e poi, io dico sì, avevo un ricordo, così, e, invece, io credo che poi, sia stato preso, da una forma, psicologica, deviante, quindi, non posso dire, non posso dire, non posso dire, non posso dire, un nostro collega, non aveva fatto, una deviante, così, con la profondità, ma, comunque, io troppo, faccio un deciso, perché, io credo che, una delle ragioni, per cui, quel gruppo di persone, che si, si espressano, nel governo del gruppo, non è un caso, che, quello, che per due volte, lì, ci fu, un lettore, perché, secondo me, c'era proprio, la parte del lettore, l'identificazione, ma, antropologica, ed è oggi, secondo me, questo il punto, su cui, il punto, il punto politico, oggi, viene meno, questa rettesa, non ideologica, ma, antropologica, una domanda, prima di affrontare, poi, il tema, del comito, con una curiosità, che viene sempre, quando una grande persona, non ci si, ti immagini, come si, come agirebbe, cosa direbbe oggi, però, ha subito, si è sempre battito, insieme a Poli, si è battuto per lei, o si è sempre stato vicino, ha sempre visto quello, e stanno in fondo, questi due uomini, cagati, e stanno l'unico, in quel momento, che ritraga, l'altro sogno, l'efficacia, un altro ricordo, in cui, in politica, c'è stato un obiettivo, giusto, sbagliato, ma, non importa, era comunque, una cosa, in cui, tutti, ci si sentivano, quando siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta, e abbiamo fatto un colo, no? Ecco, come avete raccontato, il pofinismo, il pofinismo, o il sovranismo, se voglio, se voglio, guardi, che, devo dire, domande, come l'ho detto, cosa, come l'ho detto, come l'ho detto, questo, come l'ho detto, come l'incontro, il suo valigio a tracca, come se ho potuto vedere, qual'è la parla, come l'immunica di essere nascosta, la sua rispettata, e questa, iniziale, possibile, no, voglio dire, a molte persone, anche i giornalisti, Sì, sì. Abbiamo provato questa domanda alla famiglia, sia a me che a Filippo, che venendo in Italia e facendo un versante di queste domande, perché l'altro, 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 l'altro. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Il gruppo nazionale, chiaramente, ha fatto una successa. E quindi, sia la tuttavia, la tuttavia, la tuttavia, la tuttavia, il gruppo nazionale, la tuttavia, la tuttavia, la tuttavia, la tuttavia. Giustamente perché non era stato né il tracutare, era una questione molto sottile. Quindi io ho una considerazione, perché in mezzo ho perso di capire queste cose. Abbiamo anche fatto una cosa di consolidamento del diritto che si può attuare in generale che si può fare per i nostri elementi fondi. Si dice spesso che gli economisti non hanno più buono, non hanno ragione, sono numeri, sono grandi fissi, ma poi non riescono a tradurli queste cose che calano sul deficit delle persone. Com'era il suo valido? C'era questo nuovo elemento di umanità. Molto, molto bello. Pensare a questa storia personale, proprio alla sua famiglia, a quello che potrei definire in generale. Quindi il suo credo, che era una persona profondamente cristiana, era sempre più grande del termine, e quindi aveva sempre in mente l'aspetto sociale, i cambiamenti sociali, era più un fatto dell'avvenire delle generazioni successive, e poi da volte chiedeva a me come massaia, però non pensavo male perché io in realtà non c'era una musica di vista ma massaia e non posso mai rispondere. Che cosa ti chiede? Non sono le classiche domande che fanno un litro di latte, che c'era di là. Senta me. Andiamo invece al tema che vedete, quello che è un po' il filo rosso di tutto il libro, diciamo anche, il capitolo di questo, prima e su dopo, ma anche appena il dolce, il durante. Cioè questi sette anni, questi sette anni in cui vedete, i suoi figli, i suoi figli, la vostra famiglia, affronta questa grande roba, ma adesso spesso dovevamo accompagnarli. Allora, ecco, giustamente dicevano che non è che la verità delle ricette che valgono per i figli, però raccontano la storia, raccontano la vostra storia, la vostra scelta. Ecco, che cosa la spinta in questi sette anni all'immaginare che non avevamo potuto dire di staccare? Staccare di tutto. Allora, a me che non c'era la pensare di staccare, io ero gratissima a chi con il minimo indispensabile che non avevo bisogno di mantenere la vita, non avevo bisogno di mantenere la vita, perché per me era fondamentale. Cioè, la differenza tra un corpo vivo, caro ed abitante, non fino all'unico, fino a che aveva trovato l'anomia, è rimasto rossa. Nonostante questo in una stanza senza finestre, no? Era ovunque, era ovunque. Era ovunque, era ovunque. Era ovunque, era ovunque, era ovunque, era ovunque. E, proprio, è qualcosa direale di. Cioè, ammazza, 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 una persona ditta. Era ovunque, era vivo. E, benché, le speranze su questi figli altri fossero molto fruttuori. Esso, ad assentarsene da una istituzione, su un fatto di, e si vedevano, ci vuole che si rinvegliasse con la vegetale, etc. però il fatto che potesse esserci uno scambio anche solo a livello fisico, ecco, era il fatto. Io traevo forza da suo essere vivo, mi dava coraggio di incontrarlo, se posso dire, andando all'ospedale, passare del tempo con lui, poterlo carenzare, lui non caminava, come mi dissero, ho fatto una delle mie figlie, ho fatto tanto da nessuno che ha bisogno, ha visto questo problema di discriminazione, da nessuno che ha bisogno, da nessuno che ha, quello che possiamo. Mi ricordo, questo è cominciato a due modi di distaccarci dalla persona cara, il modo migliore per la persona cara, che è uguale per noi, che è il combo, no? Una persona buona in combo, per noi ci scommolge la vita di questo invece per me, oppure c'è l'altro modo, che è quello invece della venta, della malattia, quindi, che è da un lato, dall'altro, però, che permette anche di cominciare a fare i conti un po' alla volta, per quello che può evitare da indagare. In questo vostro caso, una terza situazione racconta, un'espressione di persona con cui non puoi più comunicare, di quello verbale, ma che ancora c'è. Sì, per noi, che era come un po' di piedi, io penso no, io ho anche un po' di morto, io non sono stata la mia, ma sempre la mia moglie, sono sempre sentita legata a lui, e il fatto che non potessi comunicare, si nutriva di talmente tanti ricordi, tante situazioni nelle quali ce l'hanno stambiato effettivamente delle cose, che per me era sufficiente. Quando i ragazzi sono venuti a casa, mi ha detto che era morto, Allora, Napolitano aveva detto che vorrei andarlo a trovare anche la prossima volta, e il professore, il dottorato di un patto, gli ha detto, una persona che avrebbero messo le cimini, questo mi ha procurato, come non è che si diceva che sta morendo. E quando effettivamente morto i ragazzi sono venuti dicendo che è finita, non ci volevo vedere, non potevo pensare che fosse morto, perché eravamo in questa bolla di vita sospesa, che questa era la magica, anche quella della donna del bosco, no? No, no, c'eravamo cent'anni, e festeggeremo insieme le nozze dopo, festeggeremo... Aveva creato dei suggeritti, era tutti i loro, come era? Sì, sì. Aveva inserito fra l'aventura di sua vita questa felicità. Sì, sì. Sì, sì. E per questo ho un discorso di voi, io secondo me non ho fatto un racconto, molto come se non avessi potuto prelavorare un problema. Posso? Sì. Posso chiedere del bisogno? nessuno ha dichiarato un bucchio, nessuno ha detto che è stata molto felicitata perché anche per quelli ammigliani, per le discussioni io vedo in questo non solo, posso sbagliarlo, posso contraddire non soltanto diciamo di una professione di un amore, un effetto che cambia non soltanto per tenere la dichiarazione, ovviamente la consapevolezza che nel momento andranno più, non abbiamo più diritto ma anche, sbaglio, una convinzione naturale di questa relazione di questa attenzione che questo tipo di esperienze in fondo vanno rispettate perché ciascuna è fatta con nessuno, nessuno è generalizzabile in un principio ah, ma neanche tu, dai, sono tutte cose felici e recentemente ho proprio scelto il libro, mi hanno diventato una lista del fatto quotidiano che ha cercato di un nuovo solito questa cosa io vi ho detto, penso che un uomo della decisione, siccome la propria coscienza quindi non giudico nessuna delle decisione diverse ecco, Nino è stato in questo stato di sostituzione un periodo così lungo, io, lo dico molto bravo quest'anno, siccome è molto bravo il culto di questo libro, che appunto di generale che non era destinata se fosse stato malato e avessi avuto un'algonia dei sette anni, io non lo so e c'è di fronte alla sofferenza lo sofferenza, lo sofferenza lo sofferenza, lo sofferenza lo sofferenza lo sofferenza ma non è mai successo da più in tanto non ce l'ha mai evitato non ce l'ha evitato probabilmente i cari che avevano visto quelli che sono arrivati sui giornali, sui programmi se l'hanno usato a un'alto, a un'alto, a un'alto, a un'alto, a un'alto, a un'alto, a un'alto tutto lo capito per noi, staccare la macchina non si fiede così dire che uccide da una persona vita io vorrei ancora chiusura per fare le domande e leggere questa pagina, bellissima secondo me se... questo libro è scritto bene cioè nella qualità letterale io vorrei leggere questo ho accettato con quella che si potrebbe anche chiamare cristiana la siglazione la volontà del Signore tanto cosa sarebbe servito a diventarsi se non a stare peggio ma per un altro verso è come se non avessi ancora assimilato il corpo fino in fuori finché eri vivo e eri vivo era così importante che tu fossi vivo eri una roccia una roccia calda che li sosteneva quasi come quando eri in te quando sei morto è stata una vera tragedia ma rimane talmente in un tessuto di me che a volte se chiudo le occhi non è che ti ricordi che mi venga in mente il tuo viso nel giorno di chiaroscuro che si crea dietro le palle della passata io proprio ti devo riesco persino per qualche secondo a distinguere tra i grigi che definiscono i tuoi ideali il vero e il tuo luogo grazie 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 grazie